Ecco però io ritengo che anche se ci fosse un prodotto migliore rispetto agli attuali inceneritori la reputazione delle istituzioni è così bassa tra i cittadini che non ci crederebbero ecco perché fanno opposizione fanno opposizione perché mille volte hanno sentito delle certezze che poi alla fine non lo erano rispetto alla qualità del rifiuto Io credo che sia un cane che si morde la coda caro Mario perché tutto questo può essere anche vero in teoria e sicuramente lo è anche in pratica però poi c'è un dato di fatto il cittadino non vuole sapere se il livello di diossina è un microgrammo in più o in meno di quello che sarebbe se fosse il rifiuto trattato in un altro modo il problema è che poi la vita se diventa se la qualità della vita perde così tanto per via dei rifiuti che comunque ci ritroviamo in casa anche il problema dello smaltimento con la differenziata esistono dei problemi non indifferenti io te lo dico perché da me si differenzia da un periodo di tempo molto lungo e devo dire che i problemi ci sono ce ne sono tanti compresi quelli di tenersi l'immondizia in casa per un lungo periodo anche soprattutto quando c'è il problema dell'umido le esalazioni, le cose insomma voglio dire ci sono problemi che poi non vengono considerati che fanno parte della qualità della vita dei cittadini che se noi andiamo a vedere negli altri paesi questo non sussiste cioè ci sono sistemi è vero che poi tu dici sì ma quello poi diventa un impianto industriale per farlo rendere ma certo che se è una società privata poi a gestirlo è un conto se invece è il pubblico a gestirlo è un altro conto io sono andato in paesi dove addirittura non esistono più né chi passa a prenderti le differenziate né i secchioni in mezzo alla strada esistono tubi che portano l'immondizia direttamente nei luoghi di smaltimento o di rigenerazione dove tu in casa hai plastica, metalli o indifferenziata dice sì ma così tu butti tutto fai una differenziale sì però in realtà viene lasciata anche un po' al libero arbitrio del cittadino non è che se tu butti la plastica nell'indifferenziata una volta qualcuno ti fa una multa o ti minaccia o ti dice o ti fa o vivi in uno stato di polizia è il buonsenso del cittadino la cultura che piano piano farà in modo tale che tu ti affidi a una merce rara no io mi affido all'unica cosa stabile e sicura che nel tempo farà diventare un popolo civile cioè la cultura la cultura è l'unica cosa che piano perché non è lo stato di polizia che risolve il problema è la cultura la cultura è quella che poi ti fa fare le cose automaticamente cioè tu automaticamente io per esempio ci sono delle cose che faccio automaticamente non riesco a farne delle altre anche se mi risultano più semplici hai capito? è un po' come quello che al mattino si sveglia e lascia tutte le cose per terra al bagno, in camera eccetera è anche quello che ha è un paese dove questo è addirittura in tendenza contraria come hai visto l'Italia è un paese che ha il maggior numero di analfabeti di ritorno funzionali d'Europa sì Mario però non è che dicendolo risolviamo il problema o lamentandoci cerchiamo di fare in modo non funziona solo la repressione caro mio non funziona l'educazione ma guarda Mario qui lo sai che su questo argomento noi dissentiamo ma lo vedi altrimenti funzionerebbe già bene ma non mi pare perché la repressione c'è la repressione sotto tutti gli aspetti la repressione per le strade ma non c'è una città che è impossibile anche circolare figuriamoci parcheggiare è chiaro che è chiaro ma ho capito ma come ma scusami ma allora il problema è l'organizzazione della vita ci sono molte persone se quante volte ne abbiamo parlato di questo ma nessuno si sogna di lasciare la macchina chi prima deve fare il basso ma esatto ma bisogna cominciare dalle fondamenta noi non possiamo iniziare pensando di reprimere le persone che obbligatoriamente devono prendere l'auto e continuerà così ma è un problema politico allora la politica deve pensare le strategie le scelte per poter arrivare a non lasciare la macchina in doppia fila non che tu praticamente prima mi chiedi di non lasciarla ma non mi dai un'alternativa un'alternativa di un mezzo pubblico non è che ti chiedo di non lasciarla è chietato Mario non mi sono spiegato è come se passi con rosso sì ma non mi spiego bene non puoi passare con rosso sì non mi spiego esiste una fascia della popolazione compresi noi compresi chi ti parla che non può farne a meno io lascio la macchina in doppia fila no non sono d'accordo Fabio io quando giro in macchina non la lascio mai in doppia fila pure se devo fare due chilometri ma tu sei fortunato perché tu si vede che nella tua vita puoi permetterti puoi permetterti ma ci sono persone che non possono permettersi di fare delle cose guarda io faccio il paio Mario ha tempo da perdere Mariuccio no lui può lui può permettersi ma lui lavora vicino lui lavora vicino a casa ma scusa io io delimbo perché non posso fare uno sforzo no ragazzi guarda Mario è lo stesso discorso fa il paio un po' con i discorsi che abbiamo sempre fatto sulle questioni dell'evasione dell'illusione fiscale c'è gente che non può permettersi di pagare e non paga appunto e basta poi è chiaro che quello è un bandito sì tecnicamente e vabbè perfetto siamo d'accordo però vagliela a spiegare a chi non riesce a mandare avanti la famiglia e te sei fortunato lo puoi fare dunque va bene che chi ruba allora va bene rubare dunque lo Stato ovvero noi ovvero i cittadini devono organizzarsi organizzare i propri rappresentanti per fare in modo tale da non mettere alcun cittadino nella condizione di dover infrangere delle regole che probabilmente in quanto infrangibili cioè in quanto possono rompersi in quanto tu le devi sei costretto ad infrangerle per vivere e ti potrei citare migliaia di esempi di persone che conosco di situazioni che conosciamo ma che conosci sicuramente anche te quindi non ci nascondiamo dietro a un dito il compito dell'amministrazione pubblica è quello di mettere tutti i cittadini allo stesso modo allo stesso modo nella condizione di non poter di non dover e di non poter infrangere le regole ma se tu non crei il presupposto per evitare che le regole possano essere infrante è ovvio che poi queste vengono infrante e si crea una discriminazione fra chi ha la possibilità di non infrangerle e quindi di fare l'anima bella e di dire guardate quanto so figo io non infranco sono bravo tu sei un criminale e quelli che invece purtroppo sono costretti in qualche circostanza loro malgrado ad infrangerle e vengono sempre additati hai capito ma non ci so ma io no ragionate come volete io a questo discorso non ci sto perché ti mi direbbe è certo Mario che non ci stai tu fai parte di quelli e certo tu stai dalla parte di quelli che le possono ma no la parte di quelli scusate la parte di quelli è un paio di ciuffoli a me costa fatica stare nelle regole ma guarda che costa fatica a tutti Mario a tutti è quello che dico ma ci sono ci sono delle persone ma perché riesce a starci ci sono persone che non riescono a starci pur faticando e questo te lo posso assicurare allora vale tutto ragazzi no vale perché parliamo parliamo ma te lo dico io perché parliamo parliamo perché noi che magari la maggior parte di noi ce la fanno debbono fare qualcosa per mettere nella condizione quelli che non ce la fanno di farcela capito tu dai per buono che quelli che non ce la fanno sono poveri io lo do per buono Mario sì Mario mi dispiace però Mario tu guarda sei un scusa ferma no fa me parla pure a me ogni tanto io vedo parcheggiate in doppiafina in questa città molte autovetture che non sono da poveracci per niente che c'entra lo status sociale non c'entra niente se tu puoi mettere il suo doppiafina vuol dire che tu hai la possibilità di comportarsi bene ce l'avresti ma non lo fai no perché scusa non è che se c'hai soldi e devi andare in un posto e poi cioè che vuol dire Mario che c'entra la macchina che c'hai ma tu puoi eppure una Ferrari ma perché Mario utilizza il taxi ma che c'entra quale sarebbe lo stato di necessità ma scusami Mario ma che vuol dire no adesso io te la voglio dire per tutte allora qual è lo stato di necessità di chi lascia la macchina in doppiafina qualsiasi sia la macchina beh scusami lo stato di necessità vai a piedi ti fai 10 metri ti fai 100 metri ti fai 200 metri ti fai un chilometro come faccio io devo andare in un posto necessariamente e non posso non andarci e ci devo andare eh ma non lasci ma se non ho la possibilità di farlo perché piove perché devo andare lì io me la trovo sempre si tratta di trovare un posto io me lo trovo sempre te lo trovi pure te esci mezz'ora prima Mario ascolta è ovvio che la visione la visione ma è chiaro che la tua visione è la visione di una persona che non vive la realtà di tutti i giorni delle persone ma come non vive la realtà no tu vivi la tua realtà vivi la tua realtà Mario tu vivi la realtà di ogni giorno ecco allora nella tua realtà vivere il privilegio nella tua realtà lo puoi fare ma quale privilegio ragazzi io non vi seguo più e vi saluto con tanto amore perché state facendo una cosa che fa veramente è ridicola sta cosa cioè tu hai la necessità di lasciare la macchia a doppia fila ma non lo sto dicendo ma che state a dire ma che vedi ragazzi ma che fate colazione la mattina davvero tu mi dici questa cosa qua io mi faccio dei pezzi a piedi enormi io mi faccio dei pezzi a piedi enormi per pur di non lasciare la doppia fila perché non è il privilegio mio a me mi costa fatica mi fa perdere tempo guarda io evito di farlo perché io anch'io sono un privilegiato come te e posso evitare di farlo ma ti posso assicurare ma scusate ma cosa privilegiato adesso chi rispetta la legge è privilegiato no Mario ascolta non è così però aspetta è un uomo ricco quindi voi avete la possibilità no no aspetta abbiamo detto che ricco non c'entra niente essere ricchi però a me è successo qualche volta di lasciare la doppia allora l'ho fatto io guarda l'altro giorno stavo andando hai fatto però eri a vista ero a vista dovevo prendere una cosa urgentemente urgentemente quelli che ti lasciano una macchina chiusa tu stai lì magari ma perché aspetta però quella maleducazione è un'altra cosa è quello che sto dicendo allora la maleducazione è un'altra cosa diciamo esagerare con i comportamenti maleducati allora lo stato di necessità che conduce al crimine secondo me va valutato ma no il crimine lasciare la macchina in doppia fila è un crimine e non esageriamo pigliamo la macchina in doppia fila perché è semplice ma lo stato di necessità che induce al crimine io lo conosco per esempio un paese sotto dittatura che si rivolta in armi ah perché questo che cos'è scusa non lo abbia pazienza no sto dicendo se tu mi dai per buono questo in un paese finisco se tu mi dai per buono questo in un paese democratico in cui le istituzioni sono elette democraticamente allora vuol dire che è buono però tutto compreso quello che ruba perché ha fame e io lo giustifico se c'ha fame ruba e quell'altro che c'ha necessità si muove in una maniera di infrangere le leggi perché c'è la necessità questo però è un ragionamento che se tu lo applichi a un paese democratico non stai più nella democrazia stai nella totale anarchia ognuno fa come gli pare Mario scusami quale paese democratico abbi pazienza però adesso qui no 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 i rappresentanti sono eletti democratici no ma chi ma Mario ma scusami abbi pazienza però adesso sono le 11 e 5 e non possiamo adesso allungare adesso non possiamo però domani mattina se ti vale 10 e 40 lo riprendiamo sto discorso io mi porto aspetta fermati dove voti dove voti io mi porto la costituzione domani mattina se tu vuoi 10 e 40 io sono qui mi porto la costituzione la leggiamo insieme poi vediamo se il paese democratico rispetta quello che sta scritto là sopra però cominciano a scrivere Mario Tozzi tieni duro tieni duro Mario mi raccomando ma quello è un altro discorso io sto dicendo i presidenti democratici non è un altro discorso le istruzioni sono elette dal popolo ma quali ma quali sono elette dal popolo che il popolo ha eletto persone delegandole a fare delle cose ne stanno a fare delle altre ne stanno facendo delle altre siamo in ritardo Mariuccio a domani grazie Mario ciao ciao Mario